Sono Marco e ho venduto con Home Lead. Sono voluto a conoscenza di Home Lead Abitare tramite un mio amico che ha avuto la stessa esperienza con questa agenzia, ha venduto casa in pochissimi giorni. Ho deciso di affidare il mio immobile a questa agenzia perché non avevo tempo da perdere tramite privati e quindi volevo subito dei risultati e mi serviva questo. Ho subito visto che sono molto professionali e hanno utilizzato sistemi innovativi che non conoscevo prima. È arrivata subito la proposta di casa mia, subito in pochissimi giorni. Io penso che Home Lead sia decisamente un'agenzia immobiliare innovativa perché ha un team di gente molto esperta, molto brava e affidabile che tramite queste innovazioni, questi mezzi che utilizza, riesce a vendere casa, e riesce a vendere casa in pochissimi giorni. Il mio immobile è stato presentato sul mercato decisamente molto bene, infatti anche dalle foto sembrava non fosse proprio casa mia. Infatti subito appena è uscita la pubblicità di casa mia sui social, sul mercato, ho avuto subito un sacco di gente che è venuta a fare visite a casa. Queste tecniche usate dall'agenzia hanno influito molto sul mercato e proprio questo è servito a diminuire proprio il tempo di vendita. Sono riuscito a vendere casa in pochissimi giorni. Sono assolutamente soddisfatto del risultato conseguito. La vendita è stata gestita molto bene dai consulenti, infatti ho dovuto sbrigare pochissime pratiche, hanno svolto tutto loro. Sono stato sempre seguito, non ho dovuto fare tantissimo lavoro. Mi ritengo soddisfatto, sono stato tutelato dall'agenzia, sarebbe la prima agenzia che consiglierei. Grazie. 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 Grazie.